Oggi si parla di management della ricerca. Per fare un buon management della ricerca credo bisogna affrontare tre temi principali. Il primo è una valorizzazione della ricerca fondamentale, che sia clinica applicata o di base, che oggi chiamiamo ricerca responsabile e che è la base fondamentale per poter fare innovazione. Il secondo aspetto riguarda come si passa dalla scoperta all'invenzione e al prodotto di qualche cosa di utile per la sanità in questo caso. E il terzo punto riguarda che ruolo possono avere le università in questo processo.